Mi chiamo Sabrina Minelli, ho 45 anni e rappresento l'azienda agricola di famiglia Minelli, Alfredo e Andrea. Ho studiato contabilità e sono un attestato di addetta alla contabilità. In questo momento lavoro presso la General Teleinformatica OGT come responsabile della logistica. L'azienda agricola è nata nel 1968 quando mio nonno insieme ai quattro figli e la moglie ovviamente ha deciso di trasferirsi a Modena da Savignano. Nello stesso anno mio padre è stato preso da questa passione per l'aceto e ha iniziato a produrre. Da lì la passione è cresciuta e adesso siamo a quasi 400 barili. Il mio padre è morto quattro anni fa e ha lasciato l'acetaia in primis a mio fratello che è il più grande e di conseguenza tutti noi che poi cerchiamo di portare avanti la sua passione anche se non è facile. 400 barili hanno bisogno di una cura costante che non tutti noi riusciamo a fare perché richiede un sacco di impegno. Però vogliamo portarlo avanti per il piacere della tavola e per dare ad amici e parenti un po' il senso dell'amicizia. La parola tradizione mi ricorda mio nonno che lui ha sempre portato avanti i suoi valori, il suo modo di vivere la vita in modo semplice e mi ricorda anche il fatto di essere contadini, di coltivare la terra, di avere la passione per il frutto, il prodotto che poi la terra può offrire. E nel balsamico, nell'aceto balsamico è la stessa cosa, vedere crescere un prodotto, maturare, diventare buono e soprattutto il simbolo che lui poi porterà avanti, cioè il fatto che passano gli anni, passano le persone ma lui viene portato continuamente all'interno della famiglia perché poi è una cosa familiare, una cosa strettamente riservata alla famiglia in questo caso mio padre che era gelosissimo delle sue cose, dei suoi botti, infatti non le ha mai venduto, se non l'ha proprio solo regalato.